L'attuale Presidente del Consiglio, Giorgio Ameroni, sarebbe stata contestata di recente al congresso della CGL, che vi ricordo c'è stato a Rimini, precisamente nel paracongressi, proprio ieri, il 17 marzo 2023. La famosa Premier, però, ha sdrammalizzato e avrebbe detto, ringrazio tutta la CGL dell'invito, ringrazio anche chi mi contesta, in diversi casi, con degli slogan efficaci, che ho letto da parte delle agenzie. Pensa disgradita, beh, è uno slogan che io avrei avuto considero come efficace, però io non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica. Insomma, sdrammatizza quelle che sarebbero aspre critiche, che sarebbero state a lei rivolte a Rimini nel paracongressi della CGL. Non ha paura di esporsi la brava e simpatica Giorgio Ameroni, riuscendo però anche a strappare una risata a tutti i presenti, che in qualche modo erano in locco per assistere al suo discorso. Un discorso che comunque non è, diciamo così, apparso malamente, è piaciuto di più, ma che però ha fatto, diciamo così, storcere il naso a diverse persone, per fortuna non tutte. Va bene? Probabilmente, infatti, le parole della Meloni non sarebbero piaciute a talone persone. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, se eravate presenti a Rimini, al paracongressi, chiedemi che cosa ne pensate di quello che si è verificato di recente. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, narratore italiano, commentate. Un caro saluto a voi e al prossimo video. Ciao a tutti.